Il Consiglio Comunale di San Severo ha approvato il progetto definitivo dell'intervento tangenziale est lotto 2 relativo al tratto di collegamento tra il casello autostradale e la strada statale 16 trasmesso dalla provincia di Foggia nella qualità di titolare del finanziamento oltre che soggetto attuatore. Un intervento di fondamentale rilevanza per il nostro territorio, ha commentato il sindaco Francesco Miglio con l'assegnazione di 15 milioni e mezzo di euro, un iter che si è finalmente concluso e che consegnerà un'opera fondamentale al territorio e collegherà il casello autostradale di San Severo alla statale 16 in direzione Foggia. L'approvazione del progetto costituisce l'adozione di variante allo strumento urbanistico vigente per la quale la pronuncia definitiva del Consiglio Comunale entro 45 giorni dal deposito della delibera presso la Segreteria Comunale determinerà per le parti di territorio comunale oggetto di intervento di variante urbanistica semplificata e senza la necessità di controllo della Regione Puglia.